Dopo un periodo di affiancamento, durante il quale hanno potuto affinare le competenze acquisite durante il corso di formazione ed avendo superato il relativo esame, hanno acquisito ufficialmente il titolo di Operatori Trasporto Infermi. Docenti del corso oltre a Nicolo Piave, Michele Liccardo, Andrea Miciche, anche Cristian Fenu, Noemi Mantione, Marco Lacagnina, Ignazio Lacagnina, Andrea Leone, Federica Laverde, Antonino Ariosto e Michele Ginevra. Il corso prosegue intanto per poter acquisire la qualifica di soccorritore con ulteriori 30 ore di tirocinio pratico in ambulanza in situazione di emergenza e ben ulteriori 50 ore di formazione pratica ed in aula. Una formazione, quella della Croce Rossa, che rispecchia gli standard della Regione Sicilia in materia di emergenza sanitaria con il corso TSSA, acronimo di Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza, che è altamente qualificante e formativo al fine di dare sempre il miglior servizio al cittadino. I volontari abilitati al percorso di trasporto infermi sono Francesco Musarra, Filippo Lentini, Cristian Milanese, Adriana Alessia Maida, Michela Bonaffini, Michele Russo, Chiara Sferralza e Massimiliano Lucerna. Soddisfatto il presidente della Croce Rossa italiana di Caltanissetta, Nicolo Piave. Sono ragazzi che erano già all'interno di Croce Rossa italiana, però hanno fatto un percorso formativo importante, che è un corso che gli permetterà di poter svolgere le attività di trasporto infermi in ambulanza, quindi andranno a potenziare questo tipo di attività che la Croce Rossa svolge tra le sue attività istituzionali con professionalità ed impegno, come ci contraddistingue sempre. La formazione è durata all'incirca due mesi con attività teoriche e attività pratiche svolte assieme a equipaggi già formati e quindi hanno fatto questa attività durante i trasporti che ci vengono chiesti sia dalle centrali operative, sia dal personale privato, sia dai comuni cittadini che chiamano la Croce Rossa al numero 094 29 786, che è la nostra sala operativa, per poter fare questo tipo di trasporti purtroppo spesso verso visi, e necessità anche fuori dalla Regione.